ciao a tutti ragazzi andiamo ad aprire questo battle pack superiore da 900 sbloccato da poco possibilità di trovare questi tipi di bonus o quelle skin bella se usassi quel tipo di arma ma dato che non l'uso va bene così a posto aggiunge alimentare o grande frammento questo questo mi piace anche perché di frammenti ne ho 5 addirittura costruisci arma conferma segretato aggiungere l'inventario bellissimo bellissimo non sapevo di averne 4 pensavo di averne 3 molto bene andiamo utilizzando nei prossimi video vi farò vedere quel coltello in gara